Buongiorno a tutte, vado a fare il video creazioni un pochino in anticipo questo mese perché ho da farvi vedere un po' di cose miste che vanno dalla tessitura a altre tecniche e volevo anticiparvi un pochino quello che sarà la mia produzione futura in fatto di bijoux. Comincio col mostrarvi la creazione con la quale ho partecipato alla finalissima del contest indetto da Moon Rose, Burzi e Semplici Bijoux. Ho scelto di eseguire lo schema René di Burzi e ho scelto il colore rosso. Ne approfitto per fare veramente complimenti a tutte le creative che hanno partecipato e soprattutto alle vincitrici che hanno fatto dei pezzi veramente stupendi. Questi invece sono degli orecchini con i quali ho partecipato al contest di Antonia Pastore. Bisognava partire da una delle sue incastonature dedicate alle quattro stagioni. Io ho scelto l'incastonatura estate, che è questa qui con le super duo e i mezzi cristalli e le perle da quattro, questo è il retro, e sono andata a eseguire un semplice modulo che si sviluppasse a rombo. Ho scelto i colori autunnali perché già mi sto proiettando su quello che sarà appunto l'autunno, anche perché ragazza l'estate è stenta. Comunque questi sono gli orecchini, solamente che molto probabilmente li rifarò mettendo i rivoli al contrario, perché vedete così sono belli piatti, appoggiano bene, mentre così appoggiano sull'incastonatura. E non mi convincono un granché. Questi invece vengono dal modulo Medusa, che trovate sul canale Valdò di Valentina Donatiello. Sono fatti con le zole duo, i cipollotti, le perle, e io ho aggiunto due gocce in acrilico nere, a riprendere le rocaille. Mi piacciono molto, sono molto compatti, e anche questi virano un pochino di più verso l'autunno. Questi invece sono gli orecchini fatti con il mio modulo Las Vegas. C'è da dire che con questi colori e queste kite sono molto appariscenti. Però mi è piaciuto molto fare questo schema, è tridimensionale, come potete vedere. Comunque resta piatto sul retro. E questi li trovate sul mio canale. Questi invece sono dei componenti fatti con lo schema del mio modulo pendente JJ, che trovate free sul canale YouTube. A differenza di come nasce il tutorial, quindi il modulo, che rimane con una forma un pochino a mongolfiera, ho terminato con i cipollotti piccoli da ambo le parti. Ora sono indecisa se utilizzarli forati inserendo una catenina al centro, per cui rimane così, oppure se usarli con un chiodino con gli occhiali dalle parti e utilizzarli come moduli all'interno di una unica collana. farne di più e intervallarli alla catena. Ci devo pensare. Questi invece sono dei semplici vassoi, non so per bene come si chiamano, li chiamo vassoi, dove al centro ho fatto una colata di resina UV e dei brillantini. Ne faccio vedere uno da vicino. Resta così. Ovviamente questi sono oggetti che io sto sperimentando di fare per magari un pubblico molto, 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 molto giovane. Questi invece che vedete sono dei cabochon che ho mostrato sia nella community che su Instagram. Allora, questi cabochon nascono come cabochon in vetro, semplicissimi. Vedete? Io sono andata a lavorarli sul retro, poi vi spiegherò come. E l'ho fatti per tornare un pochino anche appunto a sperimentare altre tecniche che da un po' che non prendevo in considerazione. Questi sono molto grandi. E di questi qui ho intenzione di farvi un tutorial unico che poi vi spiegherò meglio. Allora, uno di questi l'ho fatto a sutash. Era veramente molto tempo che non facevo il sutash. Non ho fatto ancora il retro. E l'unica cosa che posso dirvi è questa. Queste piattine, così messe piatte e incollate, non le ho incollate con l'asulit, ma bensì sempre con la resina UV, per avere una maggior sicurezza di stabilità. Poi, ripeto, devo andare a fare il retro. Comunque sono ben fisse e molto piatte. Ecco, un modulo base semplicissimo. Qui ho messo delle pellet dove poi ho colato una goccina, vedete sono bombate, una goccina di resina UV, più che altro perché ho visto, faccio vedere, che qui c'era già un graffio. Purtroppo queste finiture matte si graffiano molto facilmente. Queste due coppettine le ho lo stesso incollate con la resina UV. Quindi ho messo una goccina di resina UV e ci ho appoggiato la coppettina. Allora, come potete vedere, non è perfettissimo, ma è veramente tanto tanto tempo che non facevo il sutash, per cui, ad esempio, qui in mezzo si vedono i fili. Non è proprio regolare. Ogni tanto ho tirato un po' troppo il filo, vedete, ci sono delle bozzettine. Non penso che continuerò con il sutash, francamente, perché mi porta via troppo, troppo tempo. Quest'altro l'ho fatto ad embroidery, ma anche questa è una prova, ripeto, non c'è... Non c'è retro, non c'è niente. Era più che altro per vedere come incastonare ad embroidery un cabochon così bombato. Che dire? Non lo so, non sono convinta, anche perché non è semplice riuscire a far combaciare sempre le perline in maniera pari, eccetera. Però, ripeto, queste per me sono soltanto delle prove. Ultime creazioni, che anche queste avete visto sul mio profilo Instagram, le ho fatte con la pasta polimerica della Cato Polyclay. Sono sempre gli stessi cabochon e poi ci ho lavorato dietro e sopra con il Cato Polyclay. Prima di andare in contura ho spolverato con ombretti e volevo vedere anche di metterci dei brillantini, ma non mi piacciono. Ovviamente anche queste sono delle prove per vedere sia come reagisce il tutto dentro il forno, sia per capire come mi trovo a fare questi componenti. Ad esempio la treccia, per dirvi, mi piace molto di più rispetto a questo torsion fatto soltanto con due cilindretti. Oppure questa lavorazione qui la preferisco magari a, ecco, le spiraline. Non sono straconvinta di fare il cappietto sempre con la pasta perché comunque mi è rimasta un pochino morbida. Non si stacca, e questo è poco ma sicuro, non si stacca, però non mi dà molta stabilità. E questo tipo di lavorazione è quella che andrò a includere nel video tutorial dove vi mostrerò come realizzare questi cabochon qui, come lavorare questi cabochon perché comunque, ripeto, il cabochon nasce di vetro così, già bombato, in molte, molte misure differenti. Ecco, queste sono tutte le mie creazioni. Chiedetemi pure se avete delle domande, lasciatemi un commento. Spero che vi siano piaciute. Ci vediamo alla prossima. Grazie.